Sono cominciati a Teramo i lavori per l'installazione delle luminari in centro e della pista sul ghiaccio nella caratteristica location di Piazza Martiri. Nonostante le perplessità iniziali dovute al caro energia, l'amministrazione comunale ha voluto riconfermare l'importante attrattiva della pista. Passata l'emergenza Covid che per due anni ha limitato gli eventi a grande partecipazione di pubblico, il Comune ha deciso di rilanciare con un fitto programma le iniziative per le prossime festività, rimettendo al centro gli spettacoli sul palco nel cuore della città, tutto questo in stretta sinergia con le associazioni del territorio. Natale Teramano che torna in una nuova edizione con regole diverse a seguito del superamento della fase dell'emergenza acuta pandemica sono dei contenitori di partecipazione e di condivisione, quindi tutte le associazioni saranno coinvolte con uno sforzo veramente enorme ma che vogliamo confermare come negli anni precedenti per dare continuità a questo contenitore che non è una somma di eventi ma è un investimento per la città, è un investimento per la crescita della città, ai nostri cittadini, alla nostra comunità e soprattutto a Teramo Città Capoluogo per renderla sempre più attrattiva come sta diventando con la valorizzazione delle sue bellezze. Ma il sindaco di Teramo nonché presidente regionale Anci ha voluto fare anche un appello al governo affinché intervenga in ausilio degli enti. Non possono i comuni caricarsi i costi dell'emergenza energetica di questo momento perché sono come i cittadini, come le imprese su uno stesso fronte, cioè un fronte che richiede assolutamente che il governo dia risposte immediate perché se qualcuno pensa che i comuni possano pagare ancora una volta le conseguenze di questa situazione facendosi carico di situazioni che non consentono neppure di chiudere i bilanci e quindi problemi strutturali che non dipendono da poche migliaia di euro e questo togliamolo subito dal tavolo. I comuni faranno la loro parte attraverso operazioni e misure di comportamento che porteranno ad una riduzione dei costi, ad un risparmio ma non possono spegnere, in senso anche metaforico, le città. Non possono spegnere le attrattività o comunque la necessità di dare una risposta ai commercianti, ad una città, a tutte le città, io devo dire a tutte le città abruzzesi che stanno rinascendo. Quindi è importante che ci sia comunque una risposta e che ci siano delle iniziative che consentono ad un commercio in sofferenza, a città che sono in difficoltà anche a seguito della pandemia, di poter comunque vivere un periodo natalizio che aiuti ad affrontare, e superare una emergenza complessiva che ci riguarda tutti.